in fondo è un gioco anche fare dei video cercare di condividere le cose con gli altri per me un po' è un gioco però un gioco serio in cui avrei proprio voglia piacere di raccontare quello che penso quello che vedo quello che sento ho il privilegio e la possibilità di avere un laboratorio un contesto di osservazione di relazione molto importante che è quello delle persone che incontro nel mio studio che è quello che leggo ogni volta che voglio approfondire un argomento filosofico di psicologia analitica ma anche tante storie romanzi tutto ciò che arriva dalla vita comune dalla vita vera dalla vita reale e questo mi sollecita tantissimi pensieri tantissime riflessioni che mi fa piacere pensare di condividere condividere senza la paura di avere il trucco il parrucco giusto l'inquadratura giusta l'audio giusto e poi sapere su che piattaforma metterla insomma ho capito se che se continuo a preoccuparmi più del come che dei contenuti non faccio più niente allora ho pensato di autorizzarmi in questo modo io i contenuti li ho ma non perché ho la presunzione di pensare che siano quelli giusti ma perché sono i contenuti che ho da condividere e che già da molto tempo tante persone trovano interessanti per la loro esistenza perché credo che questo sia interessante e allora semplicemente voglio condividere ciò che vedo ciò che penso ciò che sono ciò che sono anche perché tante volte ho un po la sensazione che le persone che mi hanno letto che mi hanno visto in alcuni video in alcune conferenze non sappiano in realtà bene da dove nascano le mie riflessioni e da quali punti di vista io osservo il mondo quali sono anche le mie fragilità le mie difficoltà i miei timori i miei pudori e allora certo senza esagerare non è che adesso dobbiamo metterci a nudo completamente però mi piacerebbe raccontarmi un pochino nella mia quotidianità proprio perché vorrei che questo fosse anche un po di ispirazione per altri e ispirazione non è una parola a caso perché mi sono resa conto che io stessa tante volte mi blocco mi limito perché non ho la fonte di ispirazione giusta e quando poi invece la incontro immediatamente la vitalità le idee le possibilità irrompono di nuovo è giusto è sbagliato non mi importa questo è quello che sono questo è quello che so fare e questo soprattutto è quello che sento ormai tanto e forte il desiderio di fare quindi chi vorrà seguirmi bene chi non vorrà seguirmi nella libertà di non farlo come io giustamente mi comporto con molti altri e se ci ritroveremo ben trovati nel caso di commenti di curiosità di domande ovviamente lasciatele come commenti e io risponderò nei video successivi di domande ovviamente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti